Ciao, sono Fabio Picotti del gruppo ShapeBeat e oggi ho il piacere di presentarvi PlexV. Parliamo di strumenti endodontici innovativi prodotti da Orodeca che attraverso un trattamento termico li rende molto flessibili, molto elastici e più resistenti. Orodeca propone due kit iniziali con strumenti misti che arrivano o a uno strumento 2504 o a uno strumento 2506. Entrambi i kit abbiamo un opener, un glider e due shader. L'opener è lo strumento 1508 più corto degli altri strumenti che ha lo scopo di rettificare il terzo coronale. Il secondo strumento è un glider 1503 che ha lo scopo di garantirci la pervietà di quel canale. E poi abbiamo gli strumenti per la sagomatura del canale e per il raggiungimento della conicità che noi riteniamo ottimale in quel caso specifico. Nel caso parlassimo di un dente integro in cui vogliamo preservare sostanza dentale, allora sceglieremo il kit che finisce con 2504, quindi sceglieremo una conicità 0,4 e poi sceglieremo delle tecniche di otturazione che ben si adattano a quel tipo di conicità. Nel caso in cui il canale da trattare sia ampio, possiamo portare e stendere la nostra conicità a 0,6 e quindi concludere la sagomatura con un file 2506. Questo compone il kit base iniziale. Completano l'offerta del PlexV tutta una serie di finisher, fino addirittura a diametri di 60 con una conicità 0,4. Per cui le indicazioni sono quelle di utilizzare l'opener per migliorare l'accesso al canale, utilizzare il file 1503, il secondo file per raggiungere l'apice e poi sagomare definendo la conicità e a quel punto semplicemente rettificare la conicità a picare in base al diametro a picare. Gli strumenti tengono commercializzati ovviamente con le varie lunghezze, quindi 21, 25, 28 e 31 mm e l'indicazione che viene data per il loro utilizzo è quella di utilizzarli a 500 giri al minuto per tutti gli strumenti, eccetto per il 1503 che richiede una velocità inferiore di circa 300 giri al minuto. Sono strumenti sterilizzabili che possono essere utilizzati per più di un trattamento odontico e che mantengono l'efficacia per lo meno per 10 canali. Il gruppo Shapit sarà il riferimento per tutti gli utenti che sceglieranno e acquisteranno alla sistematica PlexV. Potete tranquillamente iscriverci per avere indicazioni o chiarimenti su tutti i nostri canali social, quindi sulla pagina Facebook Shapit End o sulla pagina Instagram Shapit End. Vi aspettiamo!